È stata rifiutata la nostra proposta di discutere prima quale setto sanitario ospedaliero si vuole per la nostra provincia e poi eventualmente discutere della localizzazione di un nuovo ospedale, ma prima dovremo sapere se i sindaci vogliono un nuovo ospedale che chiude tutti gli altri ospedali. Noi abbiamo una proposta concreta, salvare Pesaro, potenziare Pesaro, salvare l'ospedale di Fano, io dico ripristinare i servizi che erano nell'ospedale di Fano e tutta la rete ospedaliera che era nei presidi ospedalieri dell'entroterra e li citiamo nome e cognome questi ospedali, queste comunità, iniziando da Urbino e da Pergola, proseguendo per Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro. Il progetto è diverso, costruire una ipotetica nuova struttura ospedaliera che chiuda tutti gli altri ospedali. Quando lei diceva prima che è tutto fermo, non è vero che è tutto fermo, è tutto in movimento e il movimento si vede nella chiusura degli ospedali ad iniziare da quello di Fano. La posizione di Cartoceto è sì all'ospedale provinciale d'eccellenza che possa ospitare servizi, professionalità e tecnologie ovviamente in grado di ridurre drasticamente la mobilità passiva, cioè le decine di milioni di euro che la regione Marche spende perché i cittadini vanno a curarsi fuori regione, no ad un ospedale unico che cassi e sopprima tutti gli attuali ospedali esistenti che invece devono costituire la rete ospedaliera di filtro verso questo nuovo ospedale d'eccellenza. Per quanto riguarda il comune di Mondolfo noi non ci convince l'ospedale unico, siamo favorevoli ad un presidio sanitario articolato su più sedi, quindi con l'ittimizzazione degli ospedali dell'entroterra, quindi Pergola, Urbino, Fossombrone, Cagli, Sasso Corvare, naturalmente Pesaro e Fano. Voglio ribadire che non ci convince l'ospedale unico così come è stato concepito dalla regione Marche nel piano sanitario regionale 2012-2014, però non diciamo neanche no a prescindere a nuove strutture di eccellenza, quindi benvengano nuove strutture di eccellenza pur che ci sia un'analisi corretta costi e benefici e che venga presentato un progetto reale, uno studio di fattibilità reale a tutti i sindaci in conferenza di Arevasta come invece non è stato fatto fino adesso. La posizione del comune di Fossombrone è chiara da tempo, già in campagna elettorale abbiamo ribadito il nostro no al piano sanitario regionale che comprende la realizzazione di questo ospedale unico. Come ribadito già in conferenza stampa non siamo contrari a una costruzione nuova di un ospedale tra Fano-Pesaro oppure solo di Fano-Pesaro, ma che non sia il presupposto per smantellare totalmente la sanità locale come invece sta già accadendo purtroppo. Oggi sono partiti i posti di cura intermedia Fossombrone, Caglia, Sassò, Corvaro, quindi questo è il primo passo verso un totale azzeramento dei servizi sanitari locali. Noi siamo contrari a questo ma in alternativa proponiamo invece un piano sanitario che sia policentrico, che garantisca gli stessi servizi su tutto il territorio. La posizione del Comune di Piaggia in merito a questo argomento che stiamo trattando noi tra l'altro come alcuni sindaci è appunto legata al fatto che non è che siamo diciamo no a prescindere all'ospedale unico, però anche oggi ci siamo resi conto nella conferenza dei sindaci che veramente il problema è più legato a dare garanzie a tutto il territorio che parlare di ospedale unico. Quindi diciamo no al momento a patto che si ridiscuta il piano sanitario. La posizione del Comune di San Lorenzo in campo è di rivedere questo piano sanitario a livello regionale con un sistema che punti al policentrismo spinto ovviamente. La posizione di oggi che è venuta fuori dalla conferenza dei sindaci di Arevasta non poteva essere diversa. Quando si chiede ai sindaci di decidere dal tetto di una casa senza sapere come sono fatte le fondamenta non può esserci che altro esito che quello che abbiamo visto oggi. Io ringrazio tutti i sindaci che hanno avuto il coraggio e la forza soprattutto nei confronti dei propri cittadini di alzarsi, di non sottostare ai diktat che vengono dati dalla regione su un piano sanitario che non è stato condiviso e non è stato spiegato in nessun termine, né in particolare nessuno. La posizione del Comune di Montefelcino per quanto riguarda la questione della sanità locale è già stata ampiamente illustrata in altri momenti. Ribadiamo comunque il nostro no all'ospedale unico proprio per evitare che ci sia una crisi degli ospedali minori. La salute dei cittadini deve essere garantita, noi sindaci dobbiamo essere quelli che perlomeno tentiamo di garantire loro una lunga vita serena. Gli ospedali minori fungono da filtro per gli ospedali maggiori e soprattutto vogliamo che l'ospedale veramente sia un punto sereno dove uno purtroppo anche se è ammalato ma ci vada diciamo volentieri e diciamo con uno spirito sereno proprio sapendo che troverà cure appropriate. Allora la risposta del Comune su questa situazione è per quanto riguarda la scelta che non abbiamo operato questa mattina perché era un obbligo è stata vista come un'imposizione con poche informazioni anzi direi pochissime informazioni e questo giustifica la scelta che hanno fatto una trentina di sindaci di fare e decidere di parlare prima dell'organizzazione sanitaria regionale. Nessuno di noi è preconcettualmente contro l'ospedale, un'altra un altro ospedale ma non può essere là il vincolo e soprattutto quello che dovrebbe togliere ed eliminare l'assistenza sanitaria nell'entroterra marchigiano. È chiaro che noi vogliamo le stesse assistenze che sono previste per quelle vicino a Pesola e vicino a Fano. Grazie. Grazie.